Molte volte si pensa alle realtà minori come punti da accompagnare verso il declino e quindi c'è un atteggiamento di assistenzialismo nei loro confronti. Noi l'abbiamo sempre pensato in maniera diversa. Noi abbiamo sempre pensato che l'Italia è forte quando fa l'Italia. Fare l'Italia significa molte cose, significa scommettere sulla bellezza, sulla qualità, sull'identità, sull'innovazione e significa anche puntare sulle cose che ci rendono unici. Ecco, bene, questo lavoro che è stato realizzato dalla Fondazione Simbola assieme a Carza, assieme a Ubruzzo, assieme a Cariplo, racconta 44 esperienze, 44 storie di economia, di innovazione sociale, di innovazione tecnologica che hanno dato forza ai territori un po' in tutta Italia. è una maniera di trovare nell'Italia che c'è le radici del futuro e anche di avere in queste crisi che stiamo attraversando, la crisi climatica, la pandemia, gli effetti della guerra dovuta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, di trovare nelle nostre radici la chiave per un futuro migliore.